Io vado da Ludovico Vicino perché a questo punto la domanda è si può fare ancora qualcosa visto che ci sono le premesse per contrastare questa direttiva rispetto alla sua applicazione al settore balneare? Come diceva Giuseppe Litturi poco fa, questa direttiva non è mai stata pensata per essere applicata al settore balneare. Lo stesso Fritz Volkestein, l'ideatore di questa direttiva, ci sarebbe da dire molto sulla storia di questa direttiva, ma insomma lui stesso intervistato ha detto apertamente che non aveva mai pensato che la sua direttiva potesse essere applicata alle concessioni balneari. Quindi è chiaro che questa è una storia incredibile che si consuma però per lo più qui in Italia. Cioè noi spesso giustamente critichiamo il Moloch europeo perché in nome dei sacri principi della concorrenza è disposto a farci sacrificare tutto, anche i primi egeniti. Però si dia il caso che in questa vicenda c'è molta Italia. Pensate che la direttiva Volkestein parte effettivamente nel 2004, non nel 2006. Nel 2006 con la commissione Barroso entra in funzione, ma viene concepita nel 2004 con la commissione Prodi. E sapete qual è un commissario europeo che sotto la commissione Prodi ebbe un ruolo importante nell'aiutare il signor Fritz Volkestein a sviluppare questa bella direttiva? Un certo Mario Monti, lo conosciamo piuttosto bene qui in Italia. Ecco, parte da lì e Fatalità non riguarda praticamente nessun paese in Europa, tranne che due. La Grecia, che vede applicata la Volkestein in tutta la sua durezza, guarda un po' nel 2010 sotto la Troica fondamentalmente, e noi. Ma anche qui, sapete perché noi italiani siamo alle prese con la direttiva Volkestein e ci barcameniamo? Per una serie di chiamate da parte di attori italiani nei confronti delle istituzioni europee. La prima procedura di infrazione non è del 2022, ma addirittura risale al 2009, quando la commissione europea l'aprì nei confronti dell'Italia perché chiamata in causa dall'antitrust, dal nostro antitrust. E poi si potrebbe fare un profluvio, ad esempio, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, soprattutto il Consiglio di Stato ha avuto un ruolo nell'interpretare in maniera, diciamo così, molto esuberante la Volkestein qui in Italia. Questo è il problema fondamentale. Quando si tratta di applicare direttive e folli norme europee, noi italiani siamo più europeisti del re o, se preferite, più europeisti di Bruxelles. Questo è un po' il problema con cui abbiamo a che fare. Quindi certo che c'è una soluzione, c'è una soluzione politica, ossia ignorare tutta questa impalcatura normativa che ci viene imposta, o meglio che ci imponiamo, ma con un atto risoluto. La politica da oltre dieci anni continua a dare calci al barattolo sperando di rimandare il problema e far sì che sia qualcun altro in domani a occuparsi. Invece no, bisogna avere il coraggio di dire risolutamente no, la Volkestein è una sciocchezza e comunque, al di là del fatto che è una sciocchezza, non si può neanche pensare di applicare alle concessioni balneari. La struttura del dibattito pubblico su questi temi è proprio perversa, non si riesce a rendersi conto che è vero, dobbiamo difendere i balneari oggi perché l'alternativa significa regalare le nostre spiagge alle multinazionali. Ma dall'altra parte è anche vero che diversi tratti costieri d'Italia rendono la vita impossibile a chiunque voglia farsi il bagno senza pagare. Questo è un fatto su cui dovremmo ragionare, quindi la politica dovrebbe occuparsi. È questo il grande assente in questo dibattito, la politica che torni ad assolvere la propria funzione. E torni anche a mediare, a ragionare con il mondo balneare, trovando delle soluzioni per evolvere in una situazione più accettabile, per permettere quindi un compromesso sociale più ragionevole anche nell'accesso alle spiagge. Parliamoci chiaro, a nessuno fa piacere vedere che alcune realtà balneari a fronte di concessioni davvero esigue fanno fatturati importanti. E questo è il motivo per cui poi l'Unione Europea e chi in Italia sostiene un'agenda assurdamente liberista ha gioco facile nell'indicare i balneari come i cattivi. E invece no, i balneari non sono cattivi, semplicemente sono orfani come del resto tutti gli italiani di una politica che faccia il proprio mestiere e che cerchi di temperare le storture e sviluppare la situazione senza doversi, come al solito, affidare a un attore straniero, in questo caso all'Unione Europea, per in qualche modo sopperire alle proprie lacune. Questo è il punto. Dobbiamo tornare a essere padroni del nostro destino, padroni di noi stessi e direi in questo caso anche delle nostre coste. Ludovico, rimango su di te perché vorrei chiederti la domanda fatidica che in realtà ci siamo chiesti molte volte. Si può fare quello che tu dici? Si può riuscire a tornare a quel sistema in cui la politica si occupa veramente degli interessi dei cittadini? Ma assolutamente sì, nella misura in cui altri stati, anche stati più europeisti di noi, penso alla Francia guidata da Macron, di fronte a certe follie, come ad esempio quella della Volkestein applicata al campo balneare, dicono semplicemente no, non ci interessa. La Spagna, la Spagna che non è esattamente una potenza di primissimo piano a livello internazionale, dice no, noi facciamo come ci pare. E dunque si dota la politica dei mezzi per assolvere alle proprie funzioni. Si prende quindi però delle responsabilità di fronte ai cittadini, perché laddove, come dire, prenda delle decisioni sbagliate, tutti sanno di chi è la responsabilità di quelle decisioni. Ecco, diciamo che persino nell'orrenda situazione in cui ci butta l'Unione Europea, ci sono gli strumenti per dire no. E il fatto che questo governo decida di temporeggiare, come hanno fatto governi che lo hanno preceduto, di ben altro colore politico, governi tecnici, governi di centro-sinistra, ecco, il fatto che questo governo continui a fare la stessa cosa, la dice lunga sulla subalternità culturale, prima ancora che politica, di questi signori che ci governano. C'è bisogno di una svolta radicale, c'è bisogno anche di avere il coraggio però di confrontarsi con queste istituzioni. Certo è che se ne abbiamo sempre paura, sarà difficile tornare a perseguire il bene della nostra collettività.